Allora signora, no, vuole ammazzare, no signora, perché io mi posso ammazzare per interesse, scelto, perciò con cui mi posso ammazzare per interesse, sono con mio marito, il resto signora io non mi ammazzo con nessuno perché non abbiamo niente da dividere, no perché c'è lui davanti, io ci dico cose nella faccia i miei amici, bene, io con voi non ho un indichisfatto, non mi interessa più di questo, aspetta lui, aspetta lui, aspetta lui, aspetta lui, aspetta che stanno fanno cacciare, signora, 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 io fino a che non ho a dividere, non mi interessa molto, no, no, ci ammazziamo, basta, che ammazziamo, ci ammazziamo, ma basta non c'è i problemi a me casa, ci sembra che mi metto qua per litigare con la gente, io neanche li vedo, neanche li vedo, io ti sono confianti che si stanno sentendo tutti, ahhh, mi stanno fanno due, ahhh, non li vedo, non li sento, brava, no mi interessa, signora, non mi capo con noi, mi capo con Lorenza, realmente, non ci agluginiamo io, ha capito? Scelto, che non abbiamo tempo per ammazzare, non abbiamo tempo, signora, qua siamo amici, Poi se lei ha visto... Signora, io sono venuta a mangiare carne di cavallo! Bravo, bravo, bravo! Fra due settimane... Fra due settimane... Sì, carossi, ma non acchiappiamo, che la signora... La prossima vota, che sto capando la prossima vota? Nenzi, non acchiappiamo, Lorena, Vanessa... Signora, qua non abbiamo tempo di litigare, se lei ha visto altre persone che litigano, altri gruppi finti... No, noi qua siamo amici, amici! Vanessa, saluta la signora! Ciao signora! Le mando un bacio, che un bacio da un uomo è sempre più apprezzato! Ho scelto! Francesca, saluta la signora! Ascoltate! Signora, nooo! Con lei non mi litigiano mai a vita! Hai visto che cussavici con le scappe? Su chi le buttate fotte? Ci mangiare con tutte le parole! A dopo, a dopo! Ciao! Ciao! Ciao!